Kronplatz Plan de Corones Mercoledì 6 marzo 2024 Prendiamo l'Ovovia 201 Ruiz Riprese con GoPro Hero 11 in 4K 60fps Hyperview Prosegue la prima giornata di sci e in questo quinto video andremo a fare le piste blu 5 Holang 2 17 Spitz Horn e 18 Alpen E voilà, siamo arrivati Siamo a Kronplatz Plan de Corones 2275 metri E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite Se volete potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio Volendo potete seguirmi anche su Instagram dove trovate foto per il Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo Grazie a tutti Grazie a tutti Pista numero 5 Holang 2 blu Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Spitz Horn Grazie a tutti 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 su tutti